Ciao e benvenuto in questo corso Azure DevOps fondamenti. Io sono Michele, lavoro nell'ambito di DevOps da circa 10 anni. Ho lavorato per aziende italiane, internazionali, piccoli e grandi, facendo consulenza su tutti i livelli. Qui sarò la tua guida per imparare tutti quelli che sono i concetti DevOps e di Azure DevOps. DevOps è l'unione di persone, processi e strumenti per abilitare il rilascio continuo di valore ai nostri utenti finali. Primo, che cosa ti aspetta in questo corso? In questo corso vedremo proprio le basi di quelle che sono i concetti DevOps e di Azure DevOps e tanta terminologia verrà spiegata mano a mano che la incontriamo. Quindi questo corso va bene per te se sei un principiante che proprio è agli inizi e vuole sapere che cos'è questo fantastico mondo DevOps, ma va anche bene se già sai qualcosa e vuoi consolidare le tue conoscenze facendo pratica. Due, questo corso è fondato sulla pratica, quindi ci saranno sì delle parti teoriche, ma faremo tanti esercizi e metteremo le mani in pasta per vedere come applicarli e come funzionano veramente le cose, perché sono un forte sostenitore dell'imparare facendo. Tre, questo corso ti può andare bene come studio e come preparazione per l'esame Microsoft AZ400 e quindi che è quello dedicato ad Azure DevOps. Iniziamo subito con il prossimo video creando la tua organizzazione di Azure DevOps che farà da laboratorio per tutto quello che impareremo in questo corso. Forza, iniziamo! Per aprire una nuova organizzazione Azure DevOps ed è totalmente gratuita andiamo su dev.azure.com che è l'indirizzo di Microsoft dove viene erogata e ci si può iscrivere a questo servizio. Facciamo start free. C'è da dire che per uso personale e anche per un team molto piccolo Azure DevOps è completamente gratuito per cui non ti preoccupare, non ci sarà nessun costo da sostenere. L'unico prerequisito è avere un account personale Microsoft. Se non hai un account personale Microsoft in questo momento ne puoi creare uno. Crea un account Microsoft, metti in pausa il video e poi ritorna qui quando avrai fatto. Io faccio accesso con il mio. Io ho già un'organizzazione di Azure DevOps quindi probabilmente quello che tu ti trovi davanti è diverso e quindi faccio clic qui in new organization per guidarti passo passo nella stessa identica procedura. quindi get started non voglio ricevere informazione pubblicitaria faccio continua ok e qui mi viene proposto un nome quindi faccio Michele Ferracin IT. Quindi questo sarà il nome dell'organizzazione quindi di tutto il mio ambiente Azure DevOps dove andrò a fare il laboratorio. Scegliamo West Europe cioè questo è il data center di Microsoft dove verrà ospitata la nostra installazione. Ce ne sono sparsi in tutto il mondo quello più vicino a noi in Italia è West Europe. Scegliamo West Europe così il sito sarà più veloce a funzionare. Mettiamo 5P46L al mio captcha e il tuo probabilmente anzi sicuramente sarà diverso. Ci porta in una nuova organizzazione Azure DevOps. Ci mette qualche secondo. Eccoci qua ok siamo in una prima ero dentro una persona può avere più organizzazioni eccolo qui siamo dentro quella che ho appena creato Michele Ferracin IT e dobbiamo creare quello che si chiama un progetto cioè dentro nostra organizzazione possiamo avere tanti progetti e vediamo poi ci farò una piccola lezione teorica per capire bene che cos'è un organization che cos'è un progetto. Per il momento creiamone uno lo chiamiamo fondamenti lo facciamo privato in maniera tale che nessun altro ci possa accedere a questo progetto e facciamo create. Eccoci qua abbiamo creato il nostro primo progetto in Azure DevOps e siamo pronti a imparare e a lavorare. Perché tutto questo rumore intorno a DevOps e perché le aziende spendono milioni di euro all'anno per implementare questa cultura e tutte le pratiche che ne derivano? Perché DevOps è un concentrato deriva dall'applicare le migliori pratiche e i migliori principi che sono stati dimostrati essere validi nel mondo manufatturiero adattarli e portarlo nel mondo dell'IT. DevOps attinge a piene mani da quello che è il movimento lean diventato famoso grazie a Toyota e l'incremento di produttività incredibile che è stato fatto grazie all'applicazione di queste pratiche di riduzione degli sprechi per aumentare la velocità con cui si rilascia valore al nostro cliente. Per Toyota era delle macchine di più alta qualità o magari dei tempi di consegna più brevi. Per noi nel mondo IT significa rilasciare nuove feature o correzioni di bug nel minor tempo possibile con la più alta qualità possibile. Riassumendo possiamo dire che DevOps abilita una maggiore innovazione perché ci permette di ridurre i tempi di ciclo e quindi consegna del valore più rapida per il nostro cliente che vedrà le feature arrivare più velocemente e i bug corretti più rapidamente. Migliora la qualità e la disponibilità dei servizi perché con le pratiche DevOps andremo a monitorare meglio quello che succede in produzione e saremo pronti a intervenire magari ancora prima che l'utente se ne accorga. Infine ottimizziamo tramite delle pratiche di gestione del lavoro le risorse, le persone, riducendo gli sprechi e limitando il numero di cose che facciamo in contemporanea per avere una maggiore qualità. Uno dei modi in cui a me piace riassumere tutti i principi di DevOps è quello di utilizzare il concetto delle tre vie, le cosiddette tre vie del DevOps. Ora faccio una delle mie cose preferite, cioè un disegnetto, e proviamo a spiegarla. Allora la prima via del DevOps è cosiddetta la via del flusso. La possiamo immaginare come una freccia, la possiamo fare da così per esempio, che va da sinistra verso destra e che rappresenta il flusso, quindi il nostro processo con cui creiamo valore per i nostri clienti. Quindi da qui sulla sinistra abbiamo quelle che sono le feature nuove, le funzionalità, i bug da risolvere e così via. Quindi nascono sostanzialmente, sono delle idee, dei requisiti, che mano a mano che attraversano il nostro processo diventano magari dei requisiti un po' migliori, poi arrivano alle righe di codice, infine si arriva a un qualcosa installato su dei server o un'applicazione che i nostri utenti utilizzano. Qui completamente sulla destra, qui ho rilasciato il valore. La prima via, la via del flusso, ci raccoglie tutta una serie di pratiche che servono per velocizzare questo flusso, per ridurre gli sprechi nel nostro processo e quindi per fare in modo che le cose fluiscano il più velocemente possibile. Questa è la via del flusso dei DevOps. La seconda via è la cosiddetta via del feedback. La via del feedback è il contrario di quella del flusso, ci fa guardare, cambiamo colore, in direzione opposta. Quindi se la via del flusso si concentrava da sinistra verso destra, la via del feedback è una freccia che la immaginiamo da destra verso sinistra, o anche più frecce che ci ricordano, ci consigliano di inserire dei momenti nel nostro processo dove ottenere dei feedback sulla qualità e su come stanno andando le cose. Per esempio, dei feedback su come stanno andando i sistemi in produzione e informare magari i developer, oppure dei feedback su quanto gli utenti stanno utilizzando le feature in produzione e informare i program manager, oppure dei feedback sulla qualità del codice, degli unit test o altre cose, che nel nostro processo informano immediatamente, il più velocemente possibile, i developer senza aspettare magari di avere dei problemi di performance in produzione. La terza via di DevOps è quella del apprendimento continuo. Scrivo così, apprendimento continuo. È sostanzialmente un'attività, una via ombrello che le racchiude tutte quante, quella che abbiamo visto fino adesso, e che ci consente di, ci ricorda di migliorare continuamente sia quella che è la via del flusso, sia le nostre pratiche di feedback. L'apprendimento continuo, quindi per esempio impariamo dalle metriche che raccogliamo sul campo o dalle metriche di nostro processo che dobbiamo migliorare questa o quest'altra cosa e DevOps ci ricorda con la terza via di non smettere mai di imparare. Ora che abbiamo fatto chiarezza su quello che intendiamo per DevOps, vediamo che cos'è Azure DevOps. Quindi Azure DevOps è uno strumento, è una piattaforma costruita da Microsoft che mette a disposizione tutta una serie di funzionalità per implementare quelle che sono le migliori pratiche richieste da DevOps. E vediamo come sono organizzate. Per prima cosa abbiamo Azure Boards. Azure Boards sono tutte quelle funzionalità che ci permettono di dare visibilità al lavoro e gestirlo e tracciarlo, quindi tracciare i requisiti, i bug, feature, epiche e tutte queste cose che arrivano dalla metodologia agile. Azure Pipeline invece sono tutte quelle funzionalità che ci permettono di implementare i processi automatici per continuous integration, delivery e deployment delle nostre soluzioni. E anche testing ovviamente. Azure Repos invece è la gestione dei sorgenti tramite tecnologia Git. All'interno di un progetto di Azure DevOps possiamo avere tantissimi repository Git sostanzialmente illimitati senza costi aggiuntivi. Azure Test Plan è un modulo a pagamento e permette di gestire i test manuali che non copriamo in questo corso. Azure Artifact sono funzionalità che permettono di esporre e di creare delle gallerie di artefatti o di pacchetti private come una galleria Nougat privata o NPM privata che può essere utile all'interno del team che magari vengono prodotti degli SDK e così via e gli si vogliono condividere all'interno dell'azienda. Azure Artifact è quello che fa per noi. Abbiamo fatto quindi un'importantissima distinzione tra quello che è DevOps e Azure DevOps. DevOps è quindi una metodologia, un insieme di pratiche. Azure DevOps è uno strumento messo a disposizione da Microsoft che ci aiuta ad implementare queste pratiche. Io cercherò durante la durata di questo corso di tenere ben distinte le due terminologie e di essere esplicito quando mi riferisco a uno o all'altro perché è molto frequente in giro nell'ambiente sentire qualcuno che parla di DevOps parlando semplicemente di strumenti tecnici e invece sappiamo bene, abbiamo appena imparato che una è la filosofia e qualcos'altro, tutto il resto sono strumenti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!